Siamo a Taranto in via Pio XII per intenderci alle spalle della zona Bestat e qui uno scempio, l'ennesimo scempio. Circa un anno fa furono abbattuti questi alberi che state vedendo in quanto le loro radici praticamente creavano problemi alla pavimentazione, sollevavano la pavimentazione e ovviamente il che poteva provocare cadute con un marciapiede con up and down, sali e scendi soprattutto per gli anziani. Ritennero opportuno risolvere in una maniera a mio avviso assurda il problema abbattendo gli alberi. Si potevano trovare altre soluzioni come avviene in tante altre città d'Italia civili ma la cosa è andata. L'assurdo è che gli alberi sono stati abbattuti ma i marciapiedi non sono stati rifatti, è trascorso un anno. E allora mi rivolgo all'amministrazione comunale di Taranto, che fretta c'era di abbattere gli alberi circa un anno fa per poi non fare nulla? Almeno questi poveri alberi avrebbero potuto sopravvivere ancora per un anno, ma la loro morte è avvenuta un anno fa. In loro memoria, purtroppo, noi celebriamo questo sportello del cittadino.